Una squadra nel momento migliore perché hanno recuperato alcuni giocatori importanti di poter dire e hanno fatto due risultati positivi, hanno fatto una vittoria importante al Pisa dopo aver fermato il Cesena perché sono anche loro in un buon momento, è una squadra che si chiude bene e sa ripartire in maniera importante a qualità perché i giocatori sono un bel uomo, una lice, ci sono giocatori che stanno facendo bene e soprattutto anche la sfida dei tersini, cuscina e delia è una sfida importante quindi credo che bisogna stare attenti anche quando giochiamo noi e di non lasciare spazi di partenza con questa attenzione maggiore su queste situazioni di gioco che loro sono bravi ad approfittare. Grazie